Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con le interviste di BioBlu. Allora vogliamo parlare oggi di Svezia perché si tratta del paese che forse più di tutti ha fatto discutere per quel che riguarda la gestione dell'emergenza Covid. Noi ovviamente vogliamo vederci chiaro, vederci da vicino, capire qual è la situazione oggi in Svezia e lo facciamo con una testimone diretta. Saluto in collegamento la dottoressa Martina Dorazio, benvenuta su BioBlu. Grazie Michele, buonasera a tutti gli amici. Allora ricordiamo che Martina Dorazio è medico-psichiatra che lavora in Svezia da oltre dieci anni, quindi chi meglio di lei ci può dire quello che è stata la gestione dell'emergenza Covid e qual è la situazione attuale. Partirei quindi proprio subito dall'attualità perché proprio circa una settimana fa anche noi di BioBlu abbiamo dato la notizia di quello che succede in Svezia adesso e cioè la Svezia torna alla normalità, niente restrizioni, niente green pass con meno vaccinati rispetto all'Italia.